Il 28 novembre Elena Prestes ha discusso con diversi concorrenti del grande fratello, Jessica Morlacchi, ad esempio, ha definito invadente e poco rispettosa la coinquilina quando erano tutti a cena. La modella ha risposto sostenendo che la cantante ci avrebbe provato con diversi uomini all'interno della casa, da Giglio a Luca Calvani, e questo ha indispettito sia la diretta interessata che le sue amiche. Le scintille durante la cena. Giovedì scorso il GF ha chiesto agli inquilini della casa di esporsi dicendo grazie ad un compagno, ma anche facendo il nome di chi non vorrebbero mai ringraziare. Spagna. Aeroporto di Barcellona allagato. Evitare viaggi non necessari. Quando è stato il turno di Jessica, gli animi si sono riscaldati perché si è rivolta a Elena e ha detto. Sei stata invadente e irrispettosa nei miei momenti difficili, per questo non ti ringrazio. Quali sono questi momenti? Cosa ho fatto? Ha chiesto Prestes con tono piccato. Morlacchi non ha voluto ribattere, ma alla fine di questo gioco le due sono tornate a scontrarsi e la modella di origini brasiliane ha detto alla coinquilina. Tu qui ci hai provato con tutti. Queste parole hanno ferito la cantante, che ha preferito andare in giardino per non alimentare la discussione con una persona che non le sta affatto simpatica. Il rimprovero di Amanda. Poco dopo Amanda ha raggiunto Elena e ha cercato di spiegarle perché avrebbe sbagliato a dire queste cose a Jessica. A lei non puoi dire che ci ha provato con tutti, anche perché non è vero, ha affermato l'ecciso. La modella non ha indietreggiato neppure di un passo, e ha replicato. Io dico quello che voglio. Da quando è entrata si è avvicinata a Giglio, a Luca, a Iago, a tutti. Per me è così. Le due non sono riuscite a trovare un punto d'incontro, anzi si sono scontrate anche sulla lettera che Prestes ha scritto a Lorenzo per il suo compleanno. Javier si è inserito nella conversazione e ha detto a Elena che anche secondo lui avrebbe dovuto evitare di fare quel gesto nei confronti di un uomo che da oltre un mese fa coppia con un'altra donna. Io faccio quello che mi sento, è stata la risposta seccata della concorrente brasiliana. Il parere degli spettatori. I fan del GF si sono un po' divisi sullo scontro che c'è stato tra Elena e Jessica all'interno della casa. Quest'astio di Jessica lo trovo un po' esagerato. Elena è invadente? Luca ha un compagno e Jessica lo mette spesso in imbarazzo, ridicola. Calvani non è il suo fidanzato. Che cattiveria gratuita, lei ce l'ha con Elena perché le toglie spazio con Luca. Lei ha detto che Jessica ci prova con tutti, è grave, Elena ha ragione. Jessica è stata infatuata di Giglio, poi di Iago e ora di Luca, sono i pareri contrastanti che alcuni utenti hanno espresso su X nelle ultime ore. Grazie.